ne aveva fatemi dare la buonasera fatemi dare la buonasera a Nico Schira che ci ha raggiunto, ciao Nico, ben trovato ciao a te, ciao a tutti stavamo parlando di Vlaovic e delle difficoltà che sta avendo ti chiedo intanto un parere sulle difficoltà che sta avendo Vlaovic e poi ti faccio già anche una domanda di mercato ti aspetti che giuntoli a gennaio faccia qualcosa lì davanti, non come sostituto di Vlaovic, ma come alternativa e poi dici perché sei così abbronzato però, dove sei stato? e beh, qualche giorno ai primi di settembre è finito il mercato per staccare un po' la spina e così ricaricarsi, visto che in estate poi non ci si ferma mai però questo non interessa agli amici che ci stanno andando sul concreto ma il tema Vlaovic purtroppo è un tema che ci stiamo trascinando da tempo adesso non c'è neanche più, tra virgolette la scusante Allegri, perché si diceva la Juve con Allegri fa un calcio molto difensivo e quindi Vlaovic va in difficoltà la Juve fa sicuramente un calcio più offensivo poi non è che stia producendo tantissimo a livello di occasioni, però sicuramente ha possesso palla, sicuramente ha una mentalità più predisposta al calcio d'attacco e Vlaovic però rimane sempre il solito, alta allenante Juve como fa una buona partita, però si mangia un paio di gol e prende un palo, devastante col Verona fa doppietta marca visita contro la Roma delude a Empoli mangiandosi un gol sullo 0-0 che se avesse segnato ovviamente avrebbe deciso la gara e staremmo parlando di un'altra cosa impalpabile contro il Napoli tanto che viene tolto all'intervallo io credo che oggi sia questo mi auguro per Vlaovic che lui possa diventare uno da 25 gol perché è l'attaccante, il giocatore più pagato della Serie A se non è chiaro che in estate poi le strade sono destinate a separarsi come è accaduto con Federico Chiesa a gennaio sicuramente la Juve considerati i problemi fisici di Milik che è desaparecido perché Milik doveva rientrare a inizio settembre sosta di settembre non è rientrato adesso si aspetta che Milik torni tra due settimane dopo la sosta di ottobre però è chiaro che la Juve se va avanti e dovesse andare avanti anche in Champions poi giocando ogni tre giorni devi avere un altro attaccante oggi la Juve è corta davanti quindi mi aspetto che ci possa essere un'opportunità nel mercato invernale magari un prestito con diritto di riscatto però sicuramente Giuntoli sta in compompiglio con Stefanelli stanno iniziando a scrutare l'orizzonte perché è chiaro che la Juve davanti è corta è proprio cortissimo anche tu diciamo Glaudic dici non è in grande forma ci può stare in una stagione che non sia in forma chi gioca? Beh però Nicolò al di là della rosa corta lo dicevamo anche nei giorni scorsi secondo me è significativo il cambio che io non avrei mai fatto ma per carità capisco dieci volte meno cento volte meno un miliardo di volte meno di Tiago Motta ma lui all'intervallo del big match con il Napoli il risultato 0-0 pensa che ci siano più chance di vincere la partita con Weah al posto di Vlaovic quella è una cosa quella è una cosa significativa è grave preoccupante è un'occasione Weah attenzione è un'occasione Weah palla in verticale è un'occasione poi calcia dritto per dritto sul fondo ma è un'occasione perché che attaccasse la profondità che allungasse la squadra che potesse in velocità creare dei problemi perché comunque Napoli è solido dietro Rachmanino ha fatto una gran partita Buongiorno stava annullando Vlaovic quindi sono due difensori che fisicamente stavano stravastando Vlaovic quindi quale poteva essere secondo Motta la chiave metto un giocatore veloce in panchina e che avesse molto c'era solo c'era solo Weah che non è una punta ma ha fatto quel tipo di tentativo quello che dici tu Carlo è giusto secondo me poi il tema è un po' più ampio perché Vlaovic stava giocando malissimo ha toccato sei palloni in tutto il primo tempo quindi se tu lo togli al cinquantacinquesimo lo esponi anche a una bordata di fischi perché poi lo sai che comunque San Siro lo Stadium il Maradona l'Olimpico e tifoserie era l'intervallo il simbolico sono pesanti dobbiamo andare un attimo da Camel per una domanda cameliana e poi ce ne liberiamo no curiosità se vado a vedere la Roma vediamo un po' di caccio uno perché Greenwood non è venuto alla Lazio due perché perché Lefe è venuto alla Roma perché secondo me questa è la cosa più strana e al volo così te faccio un pacchetto quanto conta no la parola sono semplici quanto conta il riso nel mercato di Tricoria la vera domanda è bisogna capire quanto conterà adesso perché cambiano gli interlocutori cambiano le dinamiche con il management che c'era sino a pochi giorni fa era l'agente di riferimento era non a caso ha orchestrato varie operazioni non a caso c'è il suo zampino un suo assistito ha fatto ovviamente benissimo i suoi interessi portando portando Iuri c'è caldeggiando in maniera importante la scelta di Iuri piuttosto che di altri allenatori quindi è normale che lui facesse il suo gioco era l'agente in quel momento più vicino e palladino a giugno a Sodoku vediamo adesso con il cambio di management che succede ti rispondo su una domanda tu sei furbo perché mi hai fatto una domanda che sai già la risposta su Lefe la risposta si chiama Ghisolfi è un suo pallino l'ha voluto a tutti i costi anche l'unica operazione che mi risulta portata avanti totalmente dal direttore dell'area tecnica che poi ha avuto un ruolo marginale in tutto il resto dell'estate in tutte le varie dinamiche tra l'altro voi frequentate Roma più di me mi pare che non sia mai stato presentato neanche ufficialmente alla stampa quindi è un po' da un certo punto di vista una figura mitologica detto ciò l'ha voluto fortemente facendo un'operazione molto importante e un po' sconfessata ai tempi da De Rossi che poi ha voluto fortemente Manu Coné spendendo gli stessi soldi che erano stati spesi per De Fe dove c'era già Pisilli dove comunque c'erano piacciono o non piacciono Pellegrini Cristante Paredes quindi aggiungendo un'altra bocca da fuoco in un reparto comunque che era già numericamente poi si può discutere sulla qualità ognuno ai propri gusti ma numericamente era già ricco di overbooking quindi è stata un'operazione vedremo se verrà fuori ma sicuramente un'operazione fortemente voluta dal dirigente francese sulla quale oggi ci sono naturalmente delle propensità motivi comunque di attrito di divergenza di discussione cioè di tu termini che preferisci tra De Rossi e la dirigenza perché non è che ci fosse proprio De Rossi non lo conosceva l'effetto come non conosceva non l'aveva accettato di poco vuol dire che mi dispiaceva questo era però Henry ti lasciamo andare ti lasciamo andare allo stadio ciao Henry grazie pronostico 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 niente non ha fatto un tema non fa figo vorrei andare da Nessun arrivo subito Matteo devo andare un attimo da Ale che stava tirando anche un concetto su Vlaovic e ci arriviamo se restiamo un attimo su Vlaovic chiaramente è una situazione che deve andare ad essere sistemata Vlaovic a gennaio a 18 mesi alla scadenza è un contratto enorme fuori dai parametri della nuova Juve non si possono più dare questi ingaggi alla Juventus penso che anche in giro per l'Europa sarà difficile trovare un ingaggio del genere per Vlaovic soprattutto se continua così quindi come dice Nicolò a giugno si separeranno le strade attenzione però che a 12 mesi poi dalla scadenza è a bilancio peserà intorno ai 40 milioni di euro sarà difficile trovare un club disposto a dare 40 milioni di euro alla Juve chiesa bis chiesa bis esatto esatto rischiamo di andare in un chiesa bis se non rende se non rende la soluzione il film è quello lì è lo stesso film no è sicuro se invece dovessi rendere diventa interessante io a prescindere penso che possano andare a discutere anche nei prossimi mesi di una spalmatura dell'ingaggio su più anni per avere poi più potere contratuale è stata già proposta anche nei mesi scorsi giustamente bisogna mettersi anche nei panni da Ristic e di Vlaovic se io guadagno 12 perché devo spalmare e guadagnare euro per carità assolutamente ma scusate faccio una domanda per Matteo e per Nicolò visto che tanti parlano di Vlaovic anche per quanto è stato pagato per l'ingaggio lo descrivono come un top player mi dite in quale top squadra giocherebbe titolare top player top player top squadra altrimenti non è un top player anche per nessuna parte anche a livello internazionale non parlo solo solo in Italia al Milan fa il titolare non so chi l'ha descritto chi l'ha descritto come un top player devi chiederlo a chi l'ha descritto come un top player nel senso è un giocatore importante ma che non ha fatto quello step cioè la Juve lo prende sperando che diventasse un attaccante da 25-30 gol perché se tu lo paghi quella cifra 70 milioni più 5 di bonus più una commissione da 8 milioni alla gente più un contratto a salire mostruoso un contratto folle per certi aspetti perché la cosa che mi raccontavano la posso dire tanto ormai credo sia in prescrizione comunque è abbastanza filtrata è che arriva bene fa questo tipo di contratto a Vlaovic che non ha precedenti perché di solito ci sono dei contratti a salire anche in maniera vertiginosa ma legati al fatto che magari vinci lo Scudetto vinci la Champions o fai 30 gol o fai 20 gol o fai 15 gol scegli tu il numero ma comunque questo sulla fiducia sulla fiducia anche se lui si fosse sciaguratamente infortunato o essere litigato e quindi fosse stato tutto l'anno fuori rosa saliva a prescindere quindi era comunque un contratto enorme senza una logica in più non ha avuto quel tipo di impatto stratosferico ha avuto un buon impatto ha fatto dei gol ha fatto anche dei gol importanti ha delle potenzialità però a distanza di tre anni è rimasto un giocatore che ha grandi potenzialità ma non è diventato un top non è un top oggi se tu pensi ai tre migliori attaccanti della Serie A non metti Vlaovic ma possiamo dire peggior contratto fatto firmare negli ultimi dieci anni di Serie A perché è un contratto sicuramente fatto firmare da un dirigente non di calcio che infatti non aveva mai lavorato nel calcio prima e non ha più lavorato nel calcio dopo con delle dinamiche differenti e sicuramente il fatto che non fosse legato ad alcun tipo di rendimento secondo me è proprio l'esempio di come fosse tecnicamente sbagliato il contratto poi le cifre sai le cifre sono discutibili ognuno al proprio parere non hanno puntato la pistola alla tempia a nessuno gli hanno dato quei soldi bravo Ristic bravo Vlaovic però qual è l'agico di questo contratto è una follia è una follia Matteo il tuo flash per Nico che lo salutiamo ma guarda chiudendo su Vlaovic perché la domanda che ti faccio è su di lui il problema secondo me non è tanto lui ma è come è stato presentato e come è arrivato è arrivato quando la Juve aveva dato via da pochi mesi Ronaldo con la 7 presentato con la stessa grafica di Ronaldo se ricordate quella col di Bussette eccetera eccetera no ma io quello che ti chiedo al di là di questo secondo me la Juve ha fatto più di un errore in questa campagna di campagna acquisti l'ultima estiva perché in porta sei messo benissimo io adoro di Gregorio ma secondo me non era così necessario andare a spendere 22 milioni di euro per un portiere devi tagliare il contratto ma le risparmiavi comunque a non spenderli Douglas Lewis che finora non ha giocato mai e poi soprattutto davanti serviva un vice Vlauic perché Milic ormai sembra fuori da tutti i contesti hanno addirittura ieri non so se avete visto hanno detto che probabilmente a gennaio andrà via dalla Polonia quindi non lo so e anche al di là se secondo te hanno sbagliato queste scelte perché Tiago Motta trova il coraggio di mettere UEA il coraggio però non di mettere un giovane che magari c'ha anche nella UNX Gen come ha fatto con Bangula come ha fatto con Savona mettendo Danilo fuori potrebbe mettere un giovane visto che è tanto coraggioso nelle scelte potrebbe farlo abbiamo perso Nico però abbiamo perso Nico con la connessione hai detto hai fatto una domanda troppo lunga hai fatto un editoriale mi vuoi rispondere Alessio scusa visto che non ti ascoltavo Matteo non ti ascoltavo Carlo sei mutato Carlo Alessio 5 minuti di ordinaria follia no Alessio non ti risponde non ti risponde ma ha una bombona su sole no non è una bombona dobbiamo però evidentemente discutere di questa primo piano primo piano lo dica bisogna evidentemente discutere di Sule non so se stasera giocherà pare di no ecco quindi non lo sapremo le parole di Juric ieri in conferenza non è che abbiamo fatto impazzire Sule e